Ben ritrovati con una nuova puntata di salute. Oggi parliamo di bambini e di attività fisica ed entreremo nel merito in particolare di due progetti promossi dall'azienda ASL Toscana Nord-Ovest e che sono già attivi da qualche anno negli istituti scolastici delle scuole di infanzia e delle primarie della provincia di Lucca. Progetti che sono tutt'oggi in espansione e che prendono le mosse da una fotografia di estrema sedentarietà di tanti bambini in Italia e nella nostra provincia. Pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che il 90% dei bambini svolge vita sedentaria, quindi non fa assolutamente attività fisica o perlomeno la fa sotto la soglia raccomandata. Ma vediamo la scheda. L'Italia è tra i paesi europei con il minor numero di ore di esercizio fisico a scuola. Per fare un esempio, nel ciclo di istruzione secondaria obbligatorio, la Francia dedica all'educazione fisica il 15% dell'orario complessivo contro il 7% previsto per gli studenti italiani dello stesso grado e si registra una cronica carenza di strutture sportive. Negli ultimi anni sono stati fatti passi importanti nella provincia di Lucca per promuovere l'educazione fisica tra i giovanissimi. Alla fine dell'anno scolastico 2019-2020 saranno circa 2.600 i bambini coinvolti nel progetto Stretching in classe, frutto della collaborazione fra Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute, Unità Operativa Medicina Sportiva di Lucca dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca Massaccarare Livorno. Di pari passo sta prendendo piede un altro progetto, grazie al quale si sta portando avanti anche in Italia quello che viene normalmente fatto in altri paesi, ovvero far svolgere almeno due volte alla settimana attività di educazione fisica ai bambini della scuola materna e dell'infanzia, vale a dire a quei bambini di una fascia d'età delicata ma importante per la conoscenza e lo sviluppo delle capacità motorie e sensoriali. Oggi SLURP è arrivato a 29 scuole dell'infanzia e a oltre 2.000 bambini fra i 3 e i 5 anni. Sono state coinvolte in oltre 5 scuole primarie con 152 ragazzi per un'ora alla settimana. Si tratta di apprendimento a tutti gli effetti perché vengono stimolate le capacità mentali. Partendo da questi presupposti si comprende come nel bambino le esperienze corpo, emozione e movimento siano centrali per costruire conoscenza. L'insieme delle esperienze corporee correttamente vissute costituisce un significativo nucleo per lo sviluppo di un'immagine positiva di sé. Una giusta percezione significa per il bambino avere ben chiara le possibilità che il corpo stesso può sviluppare padroneggiando il proprio comportamento e contenendo incertezze e paure. Dopo che abbiamo preso visione insieme di questi dati che ci hanno registrato qual è la situazione nella nostra provincia andiamo adesso a dialogare a Campo di Marte nella sede della Medicina Generale dello Sport con i professionisti del settore per capire perché e come è importante svolgere attività fisica fin dalla tenera età. Andiamo! Siamo con Margherita Brunetti, direttrice dell'educazione e promozione alla salute Area Centro. Un progetto questo che è iniziato da diversi anni, è attivo in diverse scuole primarie e dell'infanzia. Ecco, un progetto che parte dall'esercizio fisico ma che vuole andare ben oltre, quindi toccare e sviluppare la crescita dei bambini. Assolutamente sì, questo è un progetto che si colloca nel piano regionale di prevenzione vigente e in maniera più ampia nel programma nazionale Guadagnare Salute. È un progetto che ha due focus. Uno è specifico sullo sviluppo delle competenze di vita. Questo sviluppo si attua con la, si chiama Life Skills Education. È una metodologia educativa di promozione della salute che è stata indicata dall'OMS proprio a livello scolastico e che sviluppa quelle competenze di vita che sono fattori protettivi per i bambini, per i ragazzi, ma lo sono anche per gli adulti, per affrontare le sfide della vita quotidiana. Sono competenze cognitive, come la creatività, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni. Sono competenze emotive, quindi saper gestire le proprie emozioni, saper gestire lo stress, l'autoconsapevolezza e poi sono anche competenze socio-relazionali, quindi il saper relazionarsi con gli altri, la comunicazione efficace. Quindi sono tutte competenze che ci aiutano ad affrontare tutte quelle sfide che quotidianamente la vita inevitabilmente ci dà. e con un focus anche sull'attività fisica, quindi lo stretching. Infatti questo è un progetto che l'educazione e promozione della salute attua in collaborazione con la medicina dello sport e quindi con i colleghi di Lucca della medicina dello sport. Inoltre questo progetto, in questo ultimo anno, si è ancora arricchito con ulteriori esercizi di consapevolezza del corpo, del respiro, ma anche la consapevolezza delle nostre emozioni, di quello che proviamo. E questo lo potete anche notare nei disegni dei bambini, dove in molti disegni i bambini scrivono io sento, io sento rabbia, io sento paura, io sento ansia. Imparano i bambini a gestire, quindi a riconoscere, a gestire le proprie emozioni. E questo è molto importante, sia nei bambini, ma ripeto, anche negli adulti, proprio per affrontare lo stress di tutti i giorni e per creare quello spazio tra il nostro sentire e la situazione in cui noi possiamo rispondere invece che reagire. Noi tendiamo generalmente a vivere in un modo un po' automatico, questa è la verità. Pensiamo anche che l'uso dei social voglia dire avere tanti amici, ma è tutto mediato da una rete. Quindi i rapporti umani devono essere sviluppati in vivo. Non a caso è un progetto che è nato negli ultimi anni, quindi quanto influisce la società e l'importanza che i bambini acquisiscano un tipo di emozionalità anche più forte rispetto al passato. Sì, assolutamente sì. Questo progetto si colloca infatti anche in una recente delibera della regione toscana, la 742, che recepisce l'accordo Stato-Regioni con indirizzi di policy che vede il Ministero della Salute unito al Ministero dell'Istruzione proprio con l'indicazione di una progettualità che promuove salute chiamata sistemica. Cioè si va a lavorare non solo sulle abilità dei bambini e su queste capacità necessarie e socializzanti, ma si va anche a lavorare sull'ambiente, che deve essere un ambiente che offre salute. Quindi a livello organizzativo la scuola offre, per esempio in questo caso, la possibilità di fare questi esercizi in classe. E poi c'è anche l'offerta di ambienti salutari che possono promuovere sani stili di vita. Ecco perché non si parla più di tematiche. Questo accordo di policy lo dice molto chiaramente. La salute non è una tematica. La salute è una risorsa della vita quotidiana e qui riprende proprio le indicazioni della carta di Ottawa, la carta sottoscritta dall'OMS nel 1986, che dice proprio questo. La salute è una risorsa della vita quotidiana che consente di mettere in atto i propri progetti di vita. E sulla base di questo la progettualità è a tutto tondo. Cioè è una progettualità che va a lavorare sulle nostre abilità, sull'ambiente e col focus, in questo caso, dell'attività fisica. Dottore, davvero bastano dieci minuti al giorno di stretching per migliorare la nostra salute? Sicuramente in questi bambini che sono obbligati a stare quattro ore fermi sulle sedi, in posizione spesso scorretta. Questa è una buona educazione, è un buon messaggio che la scuola porta direttamente in classe durante le attività ordinarie per far capire al ragazzo quanto è importante fare questo tipo di esercizi, quanto è importante prendere conoscenza del proprio corpo, quanto è importante anche attraverso questo tipo di esercizi migliorare la propria mobilità articolare, la propria elasticità muscolare. Sicuramente se tutti noi si facesse al mattino o durante la giornata dieci minuti di stretching dopo un mese saremmo veramente in grado di apprezzare i reali benefici. Sembrano pochi dieci minuti ma fatti regolarmente, tutti i giorni, soprattutto in questa fascia di età in cui vengono proposti la scuola primaria, è un messaggio e un'educazione molto importante che portiamo avanti e che il bambino sarà in grado poi anche di trasmettere quando arriva a casa, ai propri genitori e ai propri compagni. Spesso quando pensiamo allo stretching ci viene in mente la fase conclusiva, ad esempio di un'ora di ginnastica aerobica, quindi la fase di recupero, più delle volte anche percepita come noiosa. Ecco, questo tipo di stretching che viene praticato invece tra i bambini, che tipo di esercizio è? No, questo si rifà allo stretching statico di Bob Anderson che si riprende in tutte le posizioni provenienti dallo yoga e che praticamente permette all'individuo di migliorare, come ho detto, la propria mobilità articolare, la propria elasticità muscolare, ma soprattutto permette al bambino di prendere conoscenza dei propri distretti corporei. Quindi non è un'attività noiosa il fatto che viene presa anche apprezzata dai bambini, lo dimostra per esempio quella mostra di disegni che è stata allestita stamattina, dove i bambini che hanno fatto questa esperienza negli anni passati, a fine anno ognuno ha portato un disegno per illustrare quanto gli era piaciuto e basta leggere i commenti per capire con quanto entusiasmo è stato fatto. No, può apparire noiosa magari per lo sportivo quando è visto come un momento di defaticamento, come un momento di prevenzione degli infortuni, a parte che anche nello sportivo è fondamentale appunto per la prevenzione degli infortuni e per migliorare anche la mobilità articolare, l'elasticità muscolare. Comunque l'aspetto, anzi per il bambino che è costretto a stare 5 ore, 4-5 ore seduto, questo è un momento che viene preso come un momento di svago. I bambini in Italia, nella nostra provincia, fanno vita sedentaria come gli adulti, come spesso fanno anche gli adulti? No, i bambini ne fanno più vita sedentaria perché il bambino è costretto a stare 5 ore a scuola, tanti fanno scuola anche pomeridiana. Poi chi non pratica un'attività sportiva, e non sono tanti i bambini che praticano attività sportiva, nel pomeriggio spesso videogiochi, televisione, quindi il bambino ha ancora più bisogno di un adulto di fare attività sportiva, anche perché poi determinate qualità motorie o si affinano o si apprezzano in questo periodo oppure è più difficile acquisirle poi in età avanzata. Quindi per i bambini è indispensabile farla, è indispensabile che ci sia un messaggio da parte dell'ASA, ma soprattutto anche della scuola, nello stimolare questo tipo di attività. Con 10 minuti di giorno di stretching non vuol dire che noi facciamo fare attività fisica ai ragazzi, ma portiamo un messaggio a questi bambini, intanto che prendono consapevolezza del proprio corpo, prendono consapevolezza delle proprie necessità, che imparino a eseguire questo tipo di esercizi e poi quando vanno a casa che siano pronti anche ad affrontare un'attività sportiva regolare. SLURP è il secondo progetto di questa iniziativa più globale che vuole sviluppare l'attività motoria tra i bambini. Un progetto che era già esistente all'estero e che noi abbiamo importato nella scuola di infanzia e materna. Sì, esatto. Noi di fatto realizziamo questo progetto basato di per sé sullo sviluppo dei sensi per quanto riguarda i bambini di tre anni e poi tutto quello che è praticamente la motricità nel bambino di quattro o cinque anni, il tutto con il gioco, perché il bambino deve solo giocare, deve solo divertirsi perché è in quella circostanza che meglio apprende tutte le competenze. Quindi io credo che SLURP sia la sintesi di tutto questo. Quindi che cosa consiste esattamente? Consiste praticamente nel far sì che il bambino abbia prima la conoscenza dei sensi, poi l'identità del proprio corpo, quindi la conoscenza del proprio corpo sviluppa di per sé la fiducia, sviluppa di per sé quella che è l'autorealizzazione con i giochi, dando i giochi, finalizzando i giochi, cioè quando il bambino registra un percorso di gioco, di divertimento, impara a superare determinati ostacoli e a raggiungere determinati obiettivi, cioè quello che poi nella vita ti rende praticamente fisicamente e mentalmente idoneo a raggiungere quelle che sono le finalità che ti prefiggi. Questi miglioramenti tra i bambini ci sono, li vede? Sì, ci sono notevolmente, anzi siamo in grado e abbiamo avuto modo e maniera di verificarlo sul campo perché la fisicità del bambino, l'elasticità del corpo, tutto quello che è l'armonia che acquisisce con questi giochi, con queste cose che purtroppo anche dovuto al fatto che un tempo era facile perché i bambini erano sempre all'aperto, giocavano, gli oratori, tutto quello che è stato sviluppato in altri tempi, oggi esiste invece la televisione, la sedentarietà e quindi conseguentemente il bambino non ha più quella fisicità armonica che mentre aveva precedentemente. Quindi io credo che questa attività che noi realizziamo con i bambini abbia proprio rappresenti il modo di far lavorare il bambino per realizzare questi obiettivi. Come si è sviluppato questo progetto da quando è nato e che diffusione ha avuto nelle scuole della Lucchesi? Allora ha avuto una larga diffusione, ormai siamo al quarto anno praticamente che stiamo portando avanti queste attività in collaborazione con l'ASL, la Medicina Sportiva, naturalmente il Panatron e tante altre associazioni, tanti altri service che hanno concentrato i loro interventi proprio sull'attività sportiva. L'URPA è un progetto che da questo punto di vista cerca proprio di cogliere, di mettere insieme tante risorse, tante professionalità e abbiamo migliaia di bambini ormai che stanno facendo attività sportiva all'interno dei propri spazi, delle proprie scuole, delle proprie aule. Quindi ben vengano le strutture ma si può fare attività sportiva anche con l'ambiente che ci circonda. Un'iniziativa che vuole partire dalla cura di sé, che ha tutt'altro significato rispetto alla società dell'apparenza attuale? Beh, la cura di sé è importante perché nel momento in cui io sto bene con me stesso, inevitabilmente sto bene anche con gli altri. Se so prendere cura di me, mi saprò prendere cura anche degli altri. Quindi anche qua voi capite la valenza sociale e civica e civile, no? Noi parliamo anche dell'educazione civica. Beh, attraverso lo sport, attraverso il benessere, la salute, altro che educazione civica facciamo. Sono vere e proprie competenze trasversali di cittadinanza e quindi di formazione a 360 gradi.